Il ritorno da lunedì su Rete 8 a partire dalle 20 e 25 della fortunata trasmissione traguardo lavoro condotta dal giornalista del quotidiano al centro Andrea Mori, una trasmissione che nasce in sinergia tra Rete 8 ed il centro. Andrea Mori è in studio con noi. Buon pomeriggio Andrea. Proprio delle novità di quest'anno, dell'edizione di quest'anno della tua trasmissione vorremmo parlare con te. Beh, innanzitutto l'orario perché iniziamo alle 20 e 25 anziché alle 20 e 30 perché vogliamo inserire dei nuovi contenuti sulla formazione e sull'orientamento e quindi sono dei nuovi contenuti che arricchiscono quel format che ha già portato fortuna a traguardo lavoro perché comunque al centro di tutta la trasmissione ci sono sempre le opportunità di lavoro che possiamo rappresentare tramite gli ospiti in studio. Alle 20 e 25 ogni lunedì, mezz'ora per parlare di occasioni di lavoro, per parlare di opportunità, quelle opportunità che in tanti non conoscono e che andiamo a scoprire piano piano. Molti hanno trovato anche lavoro, delle occasioni che sono state raccolte dai telespettatori e tra l'altro ricordiamo anche che essendo questa fortunata sinergia tra il centro e il rete 8 lunedì alle 20 e 25 c'è la tua trasmissione e poi martedì sul centro c'è proprio l'inserto lavoro quindi che riepiloga un po' tutte quelle che sono le opportunità di lavoro che saranno appunto alla portata dei lettori del quotidiano al centro. Esattamente, traguardo lavoro nasce proprio con lo spunto di dare un'anticipazione, di dare qualche cosa di nuovo dell'inserto lavoro e che poi potete trovare il martedì in edicola con il quotidiano al centro. Noi faremo proprio approfondimenti su quegli inserti che vengono pubblicati del martedì e quindi diciamo che è un piatto abbastanza ricco e sicuramente deve essere un piatto autorevole perché deve essere credibile perché ogni cosa che noi andremo a dire, a proporre è una cosa verificata, è una cosa vera, quindi non è che stiamo a raccontare come si dice delle favole. Assolutamente no. Quindi l'appuntamento, lo ricordiamo, è per lunedì alle 20.25 su Rete 8 con la nuova stagione di traguardo lavoro, trasmissione di Rete 8 e del centro con questa fortunata sinergia condotta da Andrea Mori che ringrazio per queste anticipazioni.